Abbiamo voluto ragionare sulle pratiche artistiche e come centro tematico abbiamo ragionato sul concetto di spazio queer. I primi due appuntamenti, oltre a queer e queer pandemia, hanno ragionato molto sul corpo come centro delle pratiche queer, sulla mostruosità come estetica, come linguaggio, come riappropazione e quest'anno ragioniamo sullo spazio, perché il romasmestamento è uno spazio fatto di corpi queer che lo abitano e quindi ragionare su come i corpi queer fanno spazio, stando insieme, stando da soli, aggregandosi, facendo comunità e come le pratiche queer possano cambiare le politiche di gestione degli spazi privati ma anche comuni. Stai ascoltando Iride, il podcast che guarda il mondo attraverso gli occhi di artiste e artisti LGBTQ+, e ally. Io sono Guido e oggi scopriremo passo a passo ultra queer e meteore fest in compagnia di Carlo Battisti. Benvenuto. Ciao a tutti. Partiamo da te, partiamo dal tuo avvicinamento all'arte queer. Come hai scoperto l'arte queer e come hai iniziato a occupartene? Mi occupo di curare artisticamente l'immagine e la direzione di un'associazione che si chiama TWM Factory, che da otto anni si occupa di progettazione culturale e lo fa appunto curando mostre, rassegni, rassegni e libri. Tre anni fa ci siamo accorti che nonostante più del 90% dei soci dell'associazione appartenesse alla comunità queer LGBT e QA+, non avevamo mai affrontato in maniera diretta temi artistici e creativi legati alla comunità e quindi abbiamo cominciato a sviluppare io e tutto il team del tempo la necessità impellente di riuscire a parlare di queste tematiche e portarle all'interno di quelli che erano i contesti istituzionali in cui spesso avevamo curato mostre o rassegnie. E quindi da lì è serpeggiata quest'idea all'interno del team, nonostante in maniera diretta nessuno dei soci di TWM Factory, io per primo proviene dal campo della storia dell'arte o dell'arte contemporanea. Io mi sono formato come designer in realtà, sono invece un designer, un comunicatore per i beni culturali, ma non ho studiato arte contemporanea se non in quei pochi esami presenti nel percorso di studi di architettura. E quindi è stato un learn by doing, proprio imparare facendo, e questo ha secondo me portato uno sguardo un po' differente rispetto a quelle che sono le pratiche più istituzionalizzate. E la necessità poi nasceva dal fatto che con artisti e artiste, artisti queer, c'ero sempre stato in contatto perché come lavoro parallelo a quello curatoriale svolgevo anche attività di direzione artistica e direzione della comunicazione per eventi LGBTQA+, serate queer romane, perlopiù, e dal vecchio Gay Village avevo lavorato il mio primo tirocinio mentre svolgevo la gennale, fu come designer e comunicatore per il Gay Village. Quindi ospitando concerti come quello di Mischetta, piano piano mi sono avvicinato a artisti per lo più del performativo e comunque del panorama musicale. L'associazione che hai citato fino a qualche tempo fa era nota principalmente con un altro nome o comunque con uno dei progetti principali su cui era presente sul territorio romano, che era Roma Smistamento. Che percorso c'è stato dietro al Roma Smistamento e come è evoluta questa associazione? Allora, Roma Smistamento esiste ancora, in realtà è il luogo. TWM è l'associazione dietro ai vari progetti che svolgiamo e Roma Smistamento, conosciuta sui social con questo nome principalmente, è il luogo che ospita l'associazione e spesso anche parte delle progettualità che l'associazione svolge. E com'è nata? È nata con un gruppo di giovani creativi, creative, queer, che sentivano la necessità di avere un luogo di aggregazione in cui basare la sede del loro magazine, che era The Wolfman. Cercavamo una sede e attingendo alcuni bandi, nello specifico uno di Ferrovie dello Stato, abbiamo trovato questo smistamento. l'ex smistamento Merce di Roma ha dismesso e abbiamo fatto application, abbiamo vinto l'assegnazione e siamo stati lì per cinque anni. L'abbiamo riqualificato, rigenerato, l'abbiamo trasformato in un hub creativo, in un centro culturale, in cui abbiamo cominciato a svolgere effettivamente i primi progetti curatoriali interni all'associazione e a fare tante attività formative, anche con tirocini universitari. Effettivamente, col senno di poi, è stata una delle prime pratiche queer nel campo architettonico messa in atto. Questa è una mia riflessione dell'ultimo periodo. Penso che nel campo dell'architettura, dell'urbanistica contemporanea, la rigenerazione urbana, quella vera, quindi quella che non si lega ai concetti di gentrificazione, ma che effettivamente si basa sul recupero di luoghi dismessi, basandosi su effettive necessità di comunità reali, è effettivamente una delle pratiche più queer dell'architettura contemporanea, proprio perché questi elementi urbani, in un certo senso falliti, vengono recuperati nel loro fallimento, non vedendo il fallimento di quell'immobile, un motivo di scarto, no? E quindi vengono recuperati, riabitati da persone che proprio dal basso, come un micelio, li recuperano e li rendono vivi. Grande utilizzatore di treni, non mi sarei mai aspettato che le ferrovie italiane potessero in qualche modo essere parte di un progetto, pur in dire molto indirettamente, legato all'arte queer. Un'esperienza decisamente anomale, decisamente interessante, che sta diventando sempre più visibile attraverso un festival che ormai è alla terza edizione, che è partito come ultraqueer. Che cos'è ultraqueer e come è nato e dove è nato? Ultraqueer è nato nel vecchio Roma Smestamento, come idea, perché ora Smestamento si è spostato, siamo in un'altra sede a Via di Casalbertone, sempre vicino alle ferrovie, ma non più purtroppo nell'ex Scalomerci, è nato appunto da questa necessità. La prima istituzione che ha accolto questo progetto è stata Palazzo Merulana nel 2022 e Edizioni Tlon, che ne ha poi pubblicato il primo volume. Quindi è nata lì, insieme a tutto il team abbiamo cominciato a ragionare su che cosa effettivamente fosse la queerness, quindi ultraqueer è stato il primo progetto in un certo senso di indagine, ci siamo interrogati su che cosa vuol dire queer. E quindi piuttosto che definire un termine di per sé indefinibile dal punto di vista proprio strutturale, è un termine che muta nel tempo, è un termine che cambia in base a fattori ambientali, temporali e quindi abbiamo cercato di definirlo in base a delle essenze, quindi come se fossero esistere dei profumi che lo caratterizzassero come termine. E quindi ultraqueer è andato in questa direzione, identificando delle essenze che potessero comporre il queer senza volerlo per forza definire in maniera totale. E quindi abbiamo iniziato una cura di artisti e artisti che indagassero ad esempio la non conformità dei corpi, l'identità e la sessualità, il mostruoso come riappropazione estetica e linguistica e alcuni tratti della sex positive. L'idea di ripartire dal profumo, da uno dei sensi in qualche modo più, l'olfatto più trascurati anche nell'arte di solito, è molto difficile trovare artisti che lavorino attivamente sull'idea di olfatto e sull'olfatto in generale, si è trasformato in qualcosa di visivo o si è trasformato in un'esperienza olfattiva? No, è stato, tutta la mostra si è basata su pratiche di arte visiva per lo più e quindi abbiamo appunto analizzato queste aree con una collettiva di oltre 60 artiste provenienti da tutto il mondo, in realtà noi poi lavoriamo tantissimo con il territorio, quindi la parte fondante della mostra erano artisti provenienti da Roma e dal Lazio e a questo però abbiamo associato una parte secondo noi fondamentale per risalire alla matrice proprio perché come dicevo il queer è un termine che cambia in base a fattori ambientali e temporali, quindi probabilmente 30 anni fa aveva un significato differente da quello che è adesso e quindi abbiamo intrapreso una collaborazione con l'archivio Marco Sanna che è l'archivio storico del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli per salire alle matrici, proprio risalire a queste essenze di cui parlavo della queerness, studiando quindi quelli che erano i primi manifesti dei movimenti di liberazione omosessuale italiana, quindi dagli anni 70 più o meno in cui iniziano in maniera formale, quindi abbiamo testimonianza formale con i primi manifesti dei locandini fino ad oggi e nella mostra così come nel volume, nel primo volume c'è una sezione dedicata a questa indagine che riporta appunto manifesti, locandini, poster, fotografie del movimento italiano. Questa collaborazione continua ancora adesso o oltre a queer si è evoluta in altre direzioni? Continua tuttora quella con il Mario Mieli, si è un po' ridotta nel tempo ma il Mario Mieli supporta e patrocina l'iniziativa come anche dall'anno scorso il CIG, l'Archigay di Milano continua e non è presente in maniera diretta nella mostra di quest'anno proprio perché in realtà l'anno scorso abbiamo curato per il Mario Mieli una grandissima esposizione al mattatoio dal nome Rivoluzionarie che raccontava i 40 anni del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli a Roma con un grosso focus sul movimento romano e quindi è stato molto bello cercare all'interno degli archivi tutto questo materiale e ricuscire tramite immagini e documenti la storia del movimento in Italia, quindi in realtà con il Mario Mieli c'è uno scambio continuo di supporto ma non in un certo senso di dipendenza. Hai citato il Mario Mieli e il CIG di Milano tra i contributori, i supporter dell'iniziativa di quest'anno, ci sono altre realtà che vi supportano o è una realtà principalmente autofinanziata e che vive grazie alle donazioni di chi decide di attraversare questi spazi? Ci supportano, ci patrocinano ma buona parte del progetto è finanziato dall'associazione stessa quindi da chi dona costantemente all'associazione, dalle attività che l'associazione fa come abbiamo un bookshop, abbiamo diverse attività che svolgiamo che rendono sostenibile la realizzazione dei progetti. Quest'anno abbiamo coinvolto nella rete anche Edge che è un'associazione, un ente del terzo settore che si occupa di rappresentazione delle persone queer all'interno di contesti lavorativi e ci ha supportato e ovviamente Edizioni Clon che dal primo anno supporta il progetto ha pubblicato il primo volume, ha pubblicato Queer Pandemia che è il secondo volume, Rivoluzionari che è stato lo spin off con Mario Mieli e quest'anno pubblicherà un terzo volume che invece di essere antecedente alla mostra come sono stati i primi due sarà pubblicato l'anno dopo perché sarà proprio la somma teorica di ciò che raccoglieremo in questo festival che sarà molto interessante. Vi consiglio se avete l'opportunità di passare dal bookshop dell'associazione per andare a vedere le edizioni precedenti di Ultra Queer quindi del catalogo potremmo chiamarlo di Ultra Queer perché sono veramente dei manuali preziosi dal mio punto di vista un modo per scoprire delle realtà italiane veramente poco note e decisamente interessanti. Ci ho passato troppe ore devo dire grazie anche al tuo aiuto a esplorare il vostro bookshop è assolutamente consigliato ricordiamo l'indirizzo nel caso qualcuna o qualcuno volesse passare? Via Giuseppe Arimondi 3. A Roma. Se qualcuna volesse anche supportare il festival Ultra Queer di quest'anno c'è anche la possibilità di inviare una donazione per farlo immagino abbiate un link sul sito? Sì esatto trovate un link nel nostro aggregatore su Instagram sul nostro sito di TWA Factory ma anche cercando Meteore Fest su Produzioni dal Basso. Partiamo quindi con il racconto di che cos'è Meteore Fest perché giustamente hai accennato che la terza edizione è di Ultra Queer ma in realtà è molto di più ed è quest'anno sdoppiato anche. Esatto e quest'anno abbiamo voluto cambiare. Le prime due edizioni come dicevo sono state dei progetti delle mostre che hanno per lo rassegna di eventi collaterale che parlava di alcune tematiche legate al queer come il linguaggio, la rappresentazione, la non conformità dei corpi, però rappresentazioni di libri, però quasi come una rassegna collaterale dalla valenza più scientifica. Quest'anno abbiamo pensato di realizzare un festival che attivasse la comunità in maniera diretta non perché le altre mostre non avessero fatto ma perché nel tempo abbiamo maturato l'idea che l'inserimento della performance, dell'atto performativo, del workshop di arte partecipata, del dibattito aperto potesse coinvolgere le comunità in maniera più diretta, renderle partecipate effettivamente e non solo spettatori, spettatrici della rassegna. E questo in realtà crea anche dei momenti fra un happening e l'altro ed è proprio in quei momenti che la rassegna si inserisce, è proprio in quei momenti di scambio in cui le persone si incontrano, parlano, dialogano, si conoscono che il festival in un certo senso prosegue oltre a quella che è la rassegna dei momenti principali che è comunque importante. E poi a volte perché il processo, come spesso nelle pratiche artistiche queer, capita, è più importante della forma, è più importante del finale e quindi abbiamo dato più spazio a questo tipo di happening. In realtà ci sono anche delle esposizioni, ma è appunto una rassegna che si costruisce con l'inserimento di vari momenti. Si sdoppia nel senso che, come dici tu, la prima parte della rassegna si svolge a Roma Smestamento, quindi nella sede di WM Factory, dal 31 maggio al 14 giugno, con quattro giorni di attivazione, 31 maggio, primo giugno, 7 giugno e 14 giugno, il giorno prima del Roma Pride. Poi ci spostiamo a Milano, dal 21 giugno al 28 giugno al Base Milano, che è un altro centro culturale che ha accolto il progetto dove si è svolta la seconda edizione, in realtà, e poi anche lì il 29 si conclude con la nostra presenza al Milano Pride. Come dicevamo, quest'anno abbiamo voluto ragionare sulle pratiche artistiche e come centro di pratiche performative, e come centro tematico abbiamo ragionato sul concetto di spazio queer. I primi due appuntamenti, oltre a queer e queer pandemia, mi hanno ragionato molto sul corpo, come centro delle pratiche queer, sulla mostruosità, come estetica, come linguaggio, come riattropazione, e quest'anno ragioniamo sullo spazio, perché Roma Smestamento è uno spazio fatto di corpi queer che lo abitano, e quindi ragionare su come i corpi queer fanno spazio, stando insieme, stando da soli, aggregandosi, facendo comunità, e come le pratiche queer possano cambiare le politiche di gestione degli spazi privati, ma anche comuni. Prima parlavamo della rigenerazione urbana, che ad esempio recupera dei luoghi, o del fallimento come non punto di caduta, in un certo senso, e quindi da lì una serie di regressioni per parlare di spazio in senso ampio, che sarà poi il tema del libro, con cui usciremo con edizioni Tlon, sulla spazialità della queerness. E per parlare di questo, ci siamo, in un certo senso, abbiamo fatto un percorso anche a ritroso. Quando abbiamo ipotizzato il nome del progetto Ultra Queer, questo ultra è venuto un po' spontaneo, in maniera quasi impulsiva, questo ultra davanti al queer, per il superamento di quei fattori ambientali e temporali di cui parlavamo prima. Studiando, in realtà, per la cura di questo festival, ci siamo imbattuti in un testo di Karen Barad, una fisica, che si chiama Quanto è Queer? e con il nostro enorme stupore abbiamo scoperto che si citava Ultra Queer, ma non il festival. Ovviamente appariva questa parola come, appunto, superamento dei binomi che compongono la nostra società e che compongono una serie di dialettiche in generale. e Karen conferisce al Quanto, quindi nella fisica, il superamento del binomio, e quindi come elemento queer in assoluto. E da lì abbiamo cominciato a curare un po' alcuni concetti, infatti il festival ragiona sulla decostruzione di diversi binomi che compongono lo spazio, come indoor, outdoor, naturale, artificiale, interno, esterno, e così via. Proprio come il quanto di Karen muta e cambia. E quindi, insomma, è stato bello scoprire che poi c'è questa intelligenza collettiva anche all'interno della comunità queer in cui spesso i pensieri si ritrovano. L'intersezionalità del queer non ha limiti e arriva anche nella fisica quantistica, che è una cosa inaspettata dal mio punto di vista, ma decisamente interessante. Andrò ad approfondire un po' le fonti che stavi citando, perché mi hai decisamente incuriosito. Uno degli aspetti che trovo molto interessante è la riflessione sul queer e gli spazi, e il sottile confine tra ripopolazione di spazi, riqualificazione di spazi e gentrificazione, che in questo momento in Italia sono dei temi molto forti e colpiscono la comunità queer in molteplici modi. C'è qualche riflessione sul tema all'interno di Meteore? Assolutamente sì. Noi appunto studiamo i temi di rigenerazione da tanto tempo, con alcuni progetti di architettura. Abbiamo curato delle rassegne che si chiamano riscatti di città. Io insegno alla Facoltà di Architettura della Sapienza. Nicola, l'altro curatore del progetto, è architetto, quindi sono temi a noi molto cari. Nel tempo abbiamo studiato cosa intendiamo noi per rigenerazione. Rigenerazione è un termine abusato, come è abusato queer, come sono abusati tanti termini dalla contemporaneità. È un termine abusato perché spesso se ne fa vanto in realtà la mera riqualifica di alcuni luoghi, i meri interventi di restauro o di abbellimento di piazze, in un certo senso. Quando noi, nello specifico, ma buona parte della comunità scientifica parla di rigenerazione, parla di una serie di processi complessi che prevede per forza, in maniera insindacabile, il coinvolgimento delle comunità che quei luoghi li abitano e di cui ne hanno necessità. Altrimenti non possiamo parlare di rigenerazione. Perché la rigenerazione è qualcosa che rigenera un tessuto che già esiste, che è vero e che è reale e non inserisce dall'alto un contenuto che non è funzionale alla collettività. Questo è molto importante. All'interno del festival ci sono diversi momenti in cui questo tema è affrontato. Uno di questi, in maniera un po' più ideale, è un laboratorio di bioqueer architettura che si svolge a Roma Smestamento, curato da Giulia Cauti, un'artista e performer visiva, e Selenia Marinelli, architetta e ricercatrice, che ragionerà proprio sulla bioarchitettura, la costruzione di un ambiente queer con un workshop di arte partecipata, molto bello. E invece a Milano abbiamo un intervento di cui sono molto orgoglioso, che è la presentazione della città femminista di Leslie Kern, con un collegamento di Leslie Kern direttamente dagli Stati Uniti. Presenteremo il libro, Leslie interverrà dall'America, e poi inizierà un dibattito sulla città queer, la città inclusiva, la città ampia, con diverse menti, diverse persone che ragioneranno su questo tema. Penso ad esempio al collettivo Rebelot Design inclusivo alla redazione di Kabul Magazine, a Nina Bassoli, curatrice della triennale di Milano, e tante altre persone che ragioneranno in una tavola rotonda aperta alla collettività su che cosa vuol dire fare città queer. Decisamente un programma fitto e interessante. C'è qualche altro artista che ti senti di raccontarci per farci scoprire un po' meglio cosa avete in serbo per noi. Assolutamente sì, sarà difficilissimo non citare tutte e tutti, perché i progetti queer sono sempre collettivi, quindi sono sicuro che tutte le artiste non si offenderanno. Cercherò di citare alcuni esempi per area tematica. Quando parliamo di spazialità queer ci sono dei fondamenti a cui attingere. Fra i primi sono lo spazio politico, ovviamente, perché la comunità si è spesso raccolta intorno a delle necessità, come abbiamo detto, e la politica è stata espressione di aggregazione, i circoli, i movimenti. E questo si è riflesso spesso nei club, nei bar, che sono stati per i primi luoghi che hanno ospitato allo stesso tempo l'aspetto ludico ricreativo e quello politico aggregativo. E è stato in questi luoghi che da principio erano luoghi oscuri in cui si accedeva di nascosto a luoghi che nel tempo sono sempre più emersi verso la luce. Oggi mantengono questo equilibrio affascinante del muoversi fra la luce e l'oscurità, che è appunto non binario per eccellenza. E quindi ragioniamo molto sulla politica, presentiamo ad esempio il libro Le radici dell'orgoglio, che racconta i moti di liberazione di Umberto Bozzi, di Umberto Bozzi. Parliamo con Sara Poma che ci racconterà il suo podcast e poi ci spostiamo verso il concetto di club e quindi avremo una performance sonora di Igino, che è un DJ della scena queer underground italiana. Ci sarà una bellissima performance di agency sonora fatta da Thomas Valerio, che costruirà un vero e proprio spazio fatto da corpi che risuonano. Penso anche a Francafungo, che a Milano porterà l'arte drag in una performance al base come evento del 22 giugno. E poi vorrei citare tutti, ma forse va bene così. Io avendo qualche anno più di te ricordo un periodo in cui in Italia si iniziò a parlare di queer e le prime persone, le prime realtà a parlare di queer ancora prima dell'accademia furono centri sociali e realtà legate al mondo di movimento, al di fuori delle associazioni, al di fuori dei locali. Credo di aver sentito parlare di queer in Italia la prima volta alla fine degli anni 90 in una realtà che si chiamava antagonismo gay a Bologna. C'è una qualche connessione con questo tipo di realtà all'interno di ultra queer? C'è un ricordo di quel percorso o è qualcosa che non essendo più particolarmente forte in questo momento, preciso momento storico, in qualche modo non c'è stato modo di entrare in relazione con quel tipo di realtà? Allora, diciamo che in un certo senso Roma Smistamento è un centro culturale e quindi di matrice risale in un certo senso quello che è il centro sociale, un centro socio-culturale. Quindi abbiamo spesso dialogato con quelli che sono i centri del territorio, del quartiere e il circolo marioniali nasce in realtà con quella accezione, ma lo stesso mucca assassina che inizialmente erano delle serate fatte in casa, come saprai, in cui si raccoglievano fondi per il contrasto all'AIDS. Quindi Roma Smistamento è il centro socio-culturale che ospita e dal quale partono queste idee. Quindi la matrice in realtà rimane, è solo cambiata la forma con cui spesso questi enti si denomiano o stanno sul territorio. Noi facciamo attività del terzo settore, quindi facciamo tuttissima attività sociale. La stessa rassegna che quest'anno vuole essere gratuita per tutte e tutti è un forte messaggio di inclusività intersezionale, proprio perché pensiamo che l'arte e la cultura abbiano un valore, ma debba essere accessibile e fruibile a tutte e tutti. Hai fatto una panoramica molto ampia su che cosa avete fatto e su che cosa farete. La vostra presenza al Pride forse mi incuriosisce di più. Si può già anticipare qualcosa o è ancora tutto segreto e quindi non ti faccio neanche la domanda? In realtà sarà una presenza molto spontanea. L'anno scorso al Milano Pride abbiamo realizzato delle bandiere di Queer Pandemia, delle magliette, dei ventagli e si siamo resi riconoscibili all'interno della parata senza il carro e senza dei brand. Quindi la presenza di un collettivo di persone che rappresentasse il progetto di ricerche e pratiche queer in un contesto come Milano Pride che è molto brandizzato. Io lo dico in maniera molto neutrale in realtà perché è un contesto complesso con l'onore del finanziamento delle attività. Però abbiamo voluto portare i nostri corpi e il nostro progetto all'interno dell'arte segna così sarà anche quest'anno. Quindi Ultra Queer parteciperà in maniera indipendente nonostante poi c'è un collegamento, cioè gli enti che organizzano i due Pride ci supportano, però in maniera completamente indipendente. A proposito di questo mi piacerebbe dire che un concetto che caratterizza Ultra Queer e Queer Pandemia nell'essere comunque un progetto radicale che non scende a compromessi con le narrazioni. È stata la necessità impellente di portare corpi, pratiche e narrazioni differenti all'interno dei contesti istituzionali, non istituzionali e far vivere le pratiche artistiche queer alla comunità ma farle conoscere anche al di fuori agli alleati. Per noi è importantissimo in questo momento la costruzione di ponti, la sintesi e riuscire a coinvolgere tutti i movimenti transfemministi e queer sul territorio che spesso oggi si trovano anche in conflitto su alcune tematiche, ma bisogna unirsi. Unirsi e trovare una sintesi è molto importante in questo momento. Questo non vuol dire scendere a compromessi, ma vuol dire capirsi l'uno con l'altro e vuol dire anche avere un approccio queer nella comprensione e nell'ascolto delle necessità degli altri. Penso che in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo politicamente ora in Italia, in Europa e nel mondo sia fondamentale vedere nell'altro non un nemico ma un alleato quando si lotta insieme meno per un frontevo. Ultra Queer e Meteore Fest esisterà dal 31 maggio al 29 giugno, di fatto nelle due sedi di Milano e di Roma. Questo podcast verrà ascoltato anche in futuro e speriamo che venga ascoltato per i prossimi decenni. Chi non si trovasse in quegli spazi nel 2024 e a Roma e a Milano quando Ultra Queer e Meteore Fest sarà visibile? Come può fare a recuperare quel materiale che porterete in scena? Allora sicuramente potrà appunto studiare quello che è accaduto sui volumi editi da edizioni Tlorn, perché come hai detto anche tu all'inizio sono dei veri e propri compendi che racchiudono tutto il processo nella loro interezza. Sono dei volumi libro, non ci piace dire perché sono dei cataloghi libro, perché racchiudono sia la parte visiva che quella teorica e così sarà anche per il terzo volume. Ma sicuramente potranno venire a Roma smistamento perché il progetto continua e spesso svolgiamo degli spin-off come Queer Pandemia è stato poi replicato da noi il primo dicembre del 2024 dopo essere stato a base Milano, quindi è possibile che porzioni del festival vengano poi replicate nell'anno accademico 24-25, chiamiamolo così. Una cosa che ci tenevo a dire, che non l'ho detto prima, è un ringraziamento importante a base Milano nella costruzione di questa rassegna perché partecipa in un certo senso allo stesso modo di Team One Factory nella realizzazione e nel finanziamento di questo progetto. Base ha accolto Queer Pandemia e quest'anno Meteore supportando l'iniziativa, contribuendo a realizzare tutti i momenti, a produrre poi gli happening, le performance, le opere che stanno presenti a Milano e questo è importante perché Base è vero che è un centro culturale partecipato in parte dal Comune di Milano ma è comunque un luogo di cultura indipendente e credo che invece in Italia sia sempre più difficile oggi ricevere finanziamenti diretti dalle istituzioni che dovrebbero farsi carico della promozione della cultura e quindi ora lo stanno facendo quei luoghi indipendenti che ospitano cultura ed è importante riconoscerli. E se volete anche voi supportare quello che le istituzioni in questo momento non supportano potete andare sul profilo Instagram di Ultra Queer qui troverete appunto il link per partecipare alla campagna di crowdfunding e sostenere questo progetto. Io ti ringrazio tantissimo Carlo Battisti per essere stato con noi, potete trovare queste interviste, qualche contenuto speciale, tutti i contatti per andare a scoprire meglio Ultra Queer e Meteore Fest sul nostro sito iride.art per chi ci ascolta sulle piattaforme di streaming e sui social anche nei link qua in descrizione. Per non perdere i prossimi episodi di Iride potete iscrivervi alla newsletter sul nostro sito iride.art e seguirci sulle principali piattaforme di streaming tra cui Spotify, Apple Podcast e YouTube, su Instagram e Iride anche nel Lettre grazie alle radio che ci ritrasmettono e che ringraziamo. Grazie ancora Carlo e alla prossima! Grazie a te per avermi invitato e grazie a tutti e a tutti per aver ascoltato il mio intervento.